Sequestri in nove province italiane per 76 indagati malamente era ad Arezzo. A scoprire una mega truffa nei confronti dell'Inps sono stati gli uomini della Guardia di Finanza Arettina che nell'ambito di questa operazione hanno effettuato sequestri e perquisizioni nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Bologna, Parma, Perugia, Roma, Modena e Arezzo. Proprio nella nostra città avevano sede le due società non operative dal 2010 che riguardavano il settore edile di installazione di impianti elettrici. Il legale rappresentante era il deuses macchina della frode, un campano residente in Valdichiana, capo a quanto pare di una vera organizzazione criminale. Il meccanismo era semplice, le società richiedevano l'indennità di disoccupazione per false assunzioni lavorative e prestazioni sociali come le assicurazioni sociali per l'impiego. L'organizzazione per rendere difficoltosi i controlli presentava la documentazione per via telematica. I rimborsi andavano dai 1.500 ai 5.000 euro a seconda dei periodi di lavoro. Poi il lavoratore andava in mobilità e poteva quindi usufruire delle previste indennità. Gli indagati sono in tutto 76, le accuse vanno dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla falsità materiale commessa da privato, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in concorso.